Ciao a tutti, sono Marzia Pellarini, presidente del Circuito Levante al mare e sono qua, in questa location magnifica di Quinto per invitarvi alla manifestazione che si terrà il 10-12 giugno che si chiama Expo 2016. Expo 2016 è una manifestazione organizzata da Municipio Nove Levante in collaborazione col Civico V al mare. Cosa succederà in questa manifestazione? Ci saranno presenti una serie di stand, di associazioni sportive e non, ci sarà una pista di mountain bike, la possibilità di provare il tiro con l'arco, la fattoria con il battesimo della sella, col cavallino, la mucca, la pecora, ci saranno incontri di wrestling, ci saranno esibizioni di spade, in tutto contornato con street food, musica, animazione, musica live. E ricordiamo che ci sarà la musica live anche il venerdì sera e il sabato sera presso la stazione di Quinto. Allora 10-11-12 giugno vi aspettiamo, partecipate, venite numerosi, mi raccomando non mancate, il divertimento è assicurato.